Alvia la 27esima edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, promosso dall'Associazione Le Falde della Maiella in collaborazione con l'amministrazione comunale di Abateggio e con il patrocinio di molte istituzioni nazionali e locali. L'elemento nuovo dell'edizione 2024 è il coinvolgimento di una giuria di lettori accanto alla tradizionale giuria tecnica in cui i componenti stanno leggendo in questi giorni i testi ammessi di 18 autori a partecipare alla fase finale del premio nelle sezioni Narrativa, Saggistica e Poesia. Venerdì ci sarà un incontro pubblico ad Abateggio con l'intervento degli autori e delle opere finaliste. Sabato il gran finale 20 luglio, la premiazione in Piazza Madonna del Carmine ad Abateggio e il premio speciale alla carriera con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti a Osvaldo Bevilacqua. Ma ascoltiamo il presidente del premio e ideatore Antonio Di Marco. Abbiamo la giuria tecnica, quella diciamo tradizionale che viene nominata dal presidente del premio ma quest'anno abbiamo aggiunto anche la giuria dei lettori. Quindi sono 30 lettori, 30 appassionati di lettura, di scrittura che stanno esaminando i testi finalisti che sono in questo caso 6 per ogni sezione, quindi avremo i 18 finalisti presenti dal venerdì, dal 19 quindi luglio e in quella sede ci sarà appunto il voto espresso in busta chiusa che sapremo poi alla presenza del notaio il sabato quando andremo a premiare appunto chi risulterà essere il vincitore delle tre sezioni. Abbiamo anche alcuni premi speciali che abbiamo inteso assegnare ma la cosa importante è che quest'anno premiamo anche Osvaldo Bevilacqua in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, con Pallotta scelto come negli anni passati tra i giornalisti che in Italia hanno saputo meglio rappresentare le emozioni ma soprattutto la storia del nostro paese. E verranno conferiti caratteristici tolus agli autori dalle penne verdi che hanno sapientemente unito nelle loro opere uomo e natura. Il direttore artistico Marco Presutti. Il premio porta avanti la questione del rapporto tra l'uomo e la natura che all'epoca era pionieristico quasi oggi invece è diventato il tema fondamentale, la sostenibilità e ciò di cui tutti quanti parlano. Allora noi pensiamo che il premio debba essere non tanto il riconoscimento di quello che si è fatto che si continuerà a fare ma soprattutto un'occasione per riflettere, per ragionare e per discutere.